Nella ressa del Day 1B andiamo a trovare qualche giocatore di Agile. Ciao a tutti, sono un attimo tiltata, no scherzo, va abbastanza bene, andava meglio un'oretta fa, però non ci lamentiamo troppo, sono a 37.000 direi che va abbastanza bene, non mi voglio lamentare. Rino Reis, Emporio del Gioco. Ciao ragazzi, tutto bene, bel torneo, diciamo che sta andando bene, siamo essi bene, speriamo che va avanti così, stiamo floppando bene finalmente. Tommaso Ruttigliano, Agile e solo Agile, ciao. Ciao a tutti, sto facendo il torneo di Sam & Sam, ci stiamo divertendo, insomma, bel torneo fino ad ora, stiamo in media, speriamo di avere dei colpi fortunati dai. Riccardo Corleone, che io chiamo Riccardo Cuor di Leone per tutta Agile, ciao Riccardo. Ciao, stiamo andando a Boma Luccia. Però hai avuto tante belle soddisfazioni in passato. Ok, ok, speriamo ancora. E poi finché c'è Cips c'è vita. Ok, proviamo, proviamo. Quattro giocatori per adesso, ma ve ne presenteremo tanti altri che stanno giocando in un altro piano dove non si può fotografare. Ciao a tutti.